Salve amici di Advanced Italian, in questo video vi darò alcuni consigli su come imparare velocemente l'italiano e qualsiasi lingua straniera. Sono consigli che si basano su molti libri che ho usato nella mia esperienza personale. Iniziamo a presentare questi consigli uno per uno. Il primo consiglio con cui volevo cominciare il video è quello di utilizzare le nuove parole il prima possibile. Quindi cominciate ad imparare una lingua, cominciate ad imparare le prime parole, quelle sono parole nuove per voi. Molti studenti di lingue scrivono elenchi di nuove parole nel loro quaderno per poi non usarle mai nella vita reale. Sebbene annotare le parole nuove sia una buona abitudine da sola non è sufficiente, quindi la prossima volta che sentite una parola insolita non limitatevi a scriverla. Sforzatevi di usarla il primo possibile e nel maggior numero di modi possibile. Pronunciatela, scrivetela in una frase e chiedete ai vostri amici madrelingua maggiori informazioni al riguardo. In questo modo avrete un contesto concreto per la nuova parola che si fisserà più rapidamente nella vostra mente. Un altro aspetto importante è quello di fare molte domande. Non siate timidi e ossessivi nel prendere appunti dal fondo dell'aula. Gli insegnanti apprezzano gli studenti che fanno buone domande. Non siete sicuri di cosa chiedere? Scrivete un elenco di domande generali in fondo al quaderno e usatele durante la lezione. Ricordate che le domande migliori sono quelle che servono ad ottenere maggiori informazioni o a chiarire un dubbio. Alcune delle migliori domande sono qual è il sostantivo, il verbo, l'aggettivo che deriva da questa parola. Questa parola è usata in un contesto formale o informale. Quali sinonimi o contrasti mi consiglia? Oppure se la lingua che state studiando è parlata in diversi paesi, questa parola ha lo stesso significato in Cile, Spagna, Honduras. Se non frequentate alcun corso di lingua, non preoccupatevi, scrivete le vostre domande su un forum, ad esempio worldreference.com. Fate una ricerca su Google o chiedete ai vostri amici madrelingua di aiutarvi. Però non fermatevi a scrivere semplicemente la parola, dovete cercare di formare dei collegamenti, di usare la parola, di capire quante parole potete trarre da quella parola, come potete usarla, cercare di creare tre, quattro, cinque frasi con quella parola. Tutti questi esercizi aiutano ad imprimere quella parola nella vostra mente e nella vostra memoria di lungo periodo. Parlare con persone reali è un altro aspetto molto essenziale. Da quando abbiamo iniziato a trascorrere le nostre giornate con i nostri dispositivi elettronici in mano, ci siamo convinti che tutto può essere insegnato, può essere imparato e messo in pratica senza un'interazione personale, senza comunicare con le persone. Volete fare un master? Seguite un corso online. Avete bisogno di una buona ricetta? Cercatela su Google. Volete imparare una lingua straniera? scegliete un'app. È vero che internet può aiutare gli studenti di lingue ad ampliare il proprio vocabolario e ad acquisire fiducia nelle proprie capacità, ma non si programma o non si pronuncia mai una parola. E spesso, quando questo avviene, quella parola non serve a nulla. Se leggete, vedete in continuazione quella parola, ma non la pronunciate, non la usate, allora non ha senso impararla perché la dimenticherete molto presto. È necessario parlare con le persone madrelingua e questo bisogna farlo il primo possibile. Ora, prima di rinunciare ai vostri progetti di viaggio all'estero, non dovete preoccuparvi, potete parlare con una persona che conosce bene quella lingua e non dovete prendere questa faccenda con troppo stress. Non dovete farla sembrare difficile perché altrimenti rinuncerete molto presto. Provate a trovare qualcuno con cui fare delle conversazioni, un partner di scambio linguistico nella vostra città, ad esempio, e chiacchierate mentre prendete un caffè. Oppure seguite un corso online. Se volete combinare un'esperienza nuova ed interessante con lo studio di una lingua, andate all'estero per fare una vera esperienza. Qualunque cosa facciate, iniziate prima di sentirvi pronti. Ricordate che le lingue sono fatte per essere parlate. Molte persone dicono, no, io ho imparato solo 20-30 parole, mi vergogno a parlare con una persona in quella lingua, non sono bravo, ho paura che gli altri si mettano a ridere quando comincerò a parlare. No, questo è il peggior aspetto che mina il vostro desiderio di imparare quella lingua. Dovete assolutamente uscirne fuori, dovete avere coraggio. Il coraggio è più importante delle capacità in questi casi, perché se siete persone intelligenti ma avete paura di parlare, potete anche parlare la lingua meglio di qualsiasi italiano. Se non decidete di prendere l'iniziativa, allora le vostre conoscenze non hanno senso, se non riuscite a metterle alla pratica. Le persone coraggiose, anche se conoscono o sanno meno parole, sono più brave ad interagire con gli altri perché hanno coraggio e ci mettono, come si suol dire in italiano, ci mettono la faccia e quindi imparano più velocemente e sono anche più attraenti per i madrelingua perché dicono ecco questa persona si impegna, questa persona non ha paura, mi piace. Un altro consiglio è quello di iniziare con ciò che vi serve davvero. Immaginate di essere appena atterrati a Roma, pronti ad iniziare il vostro semestre all'estero e a parlare con veri italiani. Pensate a come saranno le vostre conversazioni. Sono sicuro che non vi butterete subito in discussioni profonde e approfondite sull'arte o sulla politica. Per partire con il piede giusto durante i primi giorni e le prime settimane all'estero, pensate alle situazioni in cui è più probabile che vi troviate. Ad esempio, mi sono perso. Quali potrebbero essere gli argomenti in questo caso? Muoversi in città, trasporto pubblico, visite turistiche e se ho fame potrebbe essere ordinare cibo, andare al supermercato. Se invece voglio conoscere nuovi amici, in questo caso gli argomenti potrebbero essere fare domande personali, parlare di famiglia, amici. Una volta individuato il vocabolario di cui avete bisogno, concentrate le vostre energie su quello. La vostra esperienza sarà molto più facile, quindi cercate di imparare 50-100 parole che riguardano il cibo, altre 100 riguardo questioni personali, amicizie, altre 100 sul turismo. Questo vi consentirà di poter essere in grado di cominciare delle conversazioni in quella lingua su questi temi. Non cercate quindi di imparare due parole qui, due là, tre qui, tre là, che non potrete usare mai. Concentratevi ad essere in grado di parlare bene su un determinato argomento, quindi imparate blocchi di parole che riguardano solo un argomento e poi passate da un argomento all'altro. Specialmente quando si comincia una nuova lingua, dall'A1 o livello A2, non si può pretendere di imparare parole che appartengono al C1, al C2. Dovete porre le basi, quindi cominciare a svolgere delle conversazioni breve su determinati argomenti. Poi, man mano che imparate anche la grammatica, i verbi, eccetera, tutto diventerà più complicato e sarete in grado di passare anche ad altri aspetti. Imparate una lingua straniera con YouTube, Netflix, eccetera. Negli ultimi anni sul web si possono trovare molti modi per cercare di migliorare le proprie competenze linguistiche. Io l'ho usato negli ultimi due anni per migliorare la mia conoscenza della lingua tedesca. Ho iniziato a guardare le serie di Netflix in inglese con i sottotitoli in tedesco e quando ho notato che la mia comprensione stava migliorando, in un paio di mesi ho iniziato a guardarle in tedesco con i sottotitoli in tedesco. E questo è di grande aiuto perché migliora non solo la pronuncia, ma spesso vi aiuta anche ad imparare la grammatica o come si scrivono delle parole. Poi su sui sottotitoli trovate sinonimi di quello che è stato appena detto, ma non la parola esatta. Quindi se dicono ad esempio cibo, nel sottotitolo leggerete alimenti che è sinonimo di cibo e quindi per la stessa parola avete imparato anche un sinonimo. E se vi scordate in futuro la parola cibo vi ricorderete probabilmente la parola alimenti. Quindi questo è essenziale perché leggete, ascoltate. Quello che leggete è diverso da quello che ascoltate, perché appunto ci sono spesso sinonimi, e siete totalmente immersi in quella lingua. Mentre se leggete, 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 ma non ascoltate, non capite la velocità della pronuncia della lingua. Spesso conoscete tutte le parole che sono state dette, le leggete nei sottotitoli e le capite, ma quando le ascoltate però notate di non aver capito nulla, perché la lingua è talmente veloce che vi sembra di aver ascoltato solo una parola quando invece il personaggio ha detto una frase intera. Questo appunto per chi non avete allenato il vostro ascolto. State allenando solo la lettura o state allenando solo la comprensione. Dovete cercare di allenare contemporaneamente tutti gli aspetti di una lingua. Abbiamo visto tutti gli esami di italiano, no? Su questo canale. E come avete notato c'è scrivere, parlare, ascoltare, comprendere. Quindi ci sono quattro aspetti in quella lingua e dovete superare tutte e quattro le prove per prendere la certificazione. Per farlo dovete allenare tutti e quattro gli aspetti. Se leggete semplicemente libri di grammatica o libri di italiano ma non ascoltate e non parlate, non riuscirete a superare le altre prove. Potete anche prendere il massimo punteggio sulla comprensione, ma zero sul parlare e ascoltare. Per questo YouTube o Netflix sono delle piattaforme molto molto utili e importanti per migliorare le vostre capacità linguistiche. Ho cominciato con Netflix, ma anche YouTube è utile. Potete trovare molti canali che vi insegnano una lingua intrattenendovi o che vi spiegano come, ad esempio, svolgere una prova, come faccio io su questo canale, in cui vi do la possibilità di insegnarvi come svolgere la prova, come approcciarvi all'esame, come cominciare le domande, come cercare le risposte e poi vi do anche la possibilità di svolgerla per conto vostro, lasciandovi una prova intera, un'ora di tempo come all'esame, le risposte alla fine del video. Voi facendo scorrere il video, prendendo un foglio di carta e penna, potete ovviamente scrivere le vostre risposte e vedere alla fine se siete in grado di svolgere la prova anche da soli. Ci sono molti strumenti che molti canali usano che aiutano. Ed infine cercate di includere quella lingua nei vostri hobby. Se amate la scienza, il calcio, il basket, la moda, eccetera, cercate di seguirli usando la vostra nuova lingua. Io amo la storia e la politica e quindi ho iniziato a guardare documentari e talk show in inglese o tedesco. Potete iniziare a guardare dei film che avete già visto in passato in tedesco. Siccome sapete già quello che si sta dicendo, non vi annoiate mentre vedete il film e prestate più attenzione a quello che si dice. Mentre se vedete un nuovo film in una lingua che non conoscete, dopo dieci minuti spegnerete la tv. Si tratta quindi di rimanere il più possibile in contatto con la nuova lingua, cercando anche di divertirsi. Questo è essenziale. Se cominciate la lingua con molto stress, siete continuamente depressi, svogliati di studiare, questo è molto molto negativo per il vostro futuro, perché sicuramente rinuncerete a studiarla. Se invece cercate di includerla negli hobby, guardare film, tv, leggere articoli, eccetera, rendere quella lingua interessante, questo è forse l'aspetto più importante nell'imparare una nuova lingua, rendere quella lingua interessante per voi. Cominciare ad amarla, anche se non riuscite a pronunciarla bene, se non riuscite a capirla. Dovete creare una sorta di connessione prima. Se ci riuscite, vedrete che in pochissimo tempo avrete risultati incredibili. Questi erano alcuni dei consigli che volevo condividere con voi. Nei prossimi video, ne analizzeremo altri. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile e vi auguro il meglio e vi do appuntamento ai prossimi video. Grazie della vostra attenzione, ci risentiamo presto. Ciao!